Grazie. Ormai buonasera a tutti, sono le 5.20, cercherò di essere breve perché ormai lo spazio per il coffee break sta per finire e quindi cerchiamo di recuperare un po' di tempo. Mi chiamo Guglielmo Gasparini, lavoro in Cessi Piemonte e mi occupo di sistemi gestionali del turismo, della cultura e dell'informazione giornalistica. Fino adesso tutti gli interventi che mi hanno preceduto hanno parlato principalmente di un elemento fondamentale, l'informazione, l'informazione che ovviamente tutti voi che siete in sala la maggior parte scrivete sui vostri giornali, informazione che però oltre ad essere molto importante per ciascuno di noi è fondamentale per le realtà lavorative, realtà che hanno bisogno di sapere che cosa accade sul territorio o che cosa si scrive di nuovo nel proprio ambito di intervento. Sicuramente la pubblica amministrazione è una di queste grandi realtà che ha bisogno di sapere rispetto al proprio ambito di intervento che potrebbe essere l'ambiente, i trasporti, la sanità o come abbiamo detto fino ad oggi, in questo momento, che cosa accade sul nostro territorio. Il territorio piemontese sappiamo che è un territorio ricco di giornali e quindi sicuramente molto importante e prezioso sapere che cosa accade vicino a noi. Ovviamente quando parliamo di pubblica amministrazione parliamo di pubblica amministrazione che tratta temi a livello internazionale, nazionale ma anche locale. La regione Piemonte, giunta in consiglio, che collaborano da sempre sul tema dell'informazione, ha da sempre capito l'importanza del territorio e dell'informazione del territorio. E di conseguenza nel 2006 ha avviato un progetto denominato piattaforma giornalistica regionale che ha il dubbio obiettivo di, da una parte, valorizzare le testate del territorio e dall'altra riuscire a consultare le informazioni non più e non solo nella modalità cartacea ma anche nella modalità digitale. Ed ecco qui che gli editori che collaborano con la regione Piemonte quotidianamente quando il giornale esce in edicola trasmettono la loro edizione anche alla regione Piemonte e il sistema della piattaforma giornalistica lo prende in carico, lo elabora e lo mette a disposizione degli utenti, gli addetti lavori della regione per individuare le notizie più pertinenti del proprio ambito lavorativo. Ma fino adesso abbiamo detto che la regione Piemonte, inteso come regione territorio, è una regione ricca di giornali e in un momento storico in cui le risorse economiche e quindi le risorse anche umane per riuscire a individuare l'informazione cruciale, importante per poter svolgere il proprio lavoro è diventato sempre più critico, poco tempo a disposizione, riuscire a trovare le informazioni che sono importanti. E a questo punto il Consiglio regionale in collaborazione con la Giunta nel 2012 ha avviato un progetto appunto denominato rassegna stampa automatica. Qual è l'obiettivo di questo sistema? L'obiettivo di questo sistema è cercare di estrarre, di dare una mano agli operatori nell'individuazione della notizia. E' un sistema che è stato pubblicato sui portali dei servizi degli enti della pubblica amministrazione piemontese, quindi il portale Piemonte è facile e il servizio è anche reperibile sul portale della Rupar Piemonte. E' un sistema multiente, quindi la Giunta e in Consiglio sono due enti che sono stati configurati in maniera differente e ciascuno di loro accedendo opportunamente con le proprie credenziali potrà fruire delle informazioni che più sono pertinenti alle proprie attività. E inoltre la rassegna stampa automatica non genera più una rassegna univoca e unica per tutto l'ente, ma è un sistema che è in grado di differenziare le notizie, la raccolta delle notizie, sulla base del settore di appartenenza o del livello, a questo punto personale, se parliamo magari del Presidente della Regione piuttosto che del Presidente Cattaneo o i diversi uffici regionali, più attinente alle proprie attività lavorative. E come funziona? Funziona che il motore di ricerca è sempre attivo. Man mano che i giornali vengono trasmessi dagli editori, il sistema li prende in carico, li elabora, li spacchetta ed estrae dal giornale solo ed esclusivamente le informazioni che sono state ritenute rispondenti al criterio di ricerca che è stato precedentemente definito. Ovviamente il criterio di ricerca non lo definiamo noi, lo definisce l'utente, cioè lui ci dirà quali sono i termini che devono essere combinati tra di loro per fare in modo che l'estrazione venga individuata dal sistema. Una volta individuata la notizia l'utente si collega al sistema quando vuole, nel senso che fino adesso abbiamo detto che l'informazione non può essere bruciata e consultata sostanzialmente in un posto ma deve essere fruita in qualunque punto l'utente si trovi. E a questo punto se è un utente che sfortunatamente lavora distante da casa e deve prendere il treno durante il percorso può tranquillamente accedere e consultare le notizie ancora prima che arrivi in ufficio, quindi è già preparato per l'attività del momento. Una volta individuata la notizia e qui come potete vedere è possibile vederla con delle antiprime piccole ma anche con delle antiprime grandi e diciamo con il titolo che permette di identificare notizia di interesse. Una volta individuata l'utente se la vuole leggere clicca sulla pagina, si apre il visualizzatore e con l'evidenzazione dei termini di ricerca sulla pagina individua da subito la notizia e la consulta. Ma che cosa succede se io consulto la rassegna stampa sul treno che sono le 7 del mattino e poi magari la notizia che mi interessa viene estratta dalla rassegna alle 9? Beh, nessun problema. Il sistema identifica quando l'utente si è collegato al sistema nella giornata e se ci sono delle notizie successivamente estratte dal sistema le notifica prima via email identificando qual è l'argomento che contiene la notizia nuova e se di interesse dell'utente, l'utente si collega e il sistema evidenzia sia sull'argomento che sulla pagina qual è la novità rispetto all'ultima volta che l'ha consultata. Ovviamente le rassegna stampa di tutti i giorni le notizie non vengono bruciate ma vengono archiviate e di conseguenza l'utente la può consultare anche nei giorni successivi a quando è stata pubblicata e lo può fare in due modalità, lo può fare sia selezionando una rassegna stampa di un giorno preciso e a questo punto il sistema presenta tutte le notizie che sono state estratte quel giorno oppure identificando un particolare argomento definendo un intervallo di tempo, due date, da LAL e il sistema estrarrà tutte le notizie relativamente a quell'argomento che sono state estratte in quell'intervallo di tempo. Però come abbiamo detto fino ad oggi la notizia non viaggia solo ed esclusivamente sulla carta stampata anzi è uno dei mezzi su cui viene pubblicata ma molte notizie anche in alternativa alla carta stampata vengono pubblicate sui social network, sui blog, sui siti internet e allora è nessun problema è in corso l'evoluzione del sistema per andare a recuperare da internet tutte le notizie che all'utente interessa. Verranno identificate su indicazione proprio dell'ente dell'utente di interesse quali sono i portali o i siti da cui interessa leggere le notizie e noi le metteremo a disposizione insieme a quelle cartacee. Vi ringrazio per l'attenzione, buonasera.